ciao a tutti e bentornati su indie gameplay ita oggi siamo sul football manager 2021 la versione beta come potete leggere in basso a sinistra mi sono creato ma in realtà non mi assomiglia molto allora ho avuto questo grandissimo onore che mai mi sarei aspettato di poter portare questo gioco sul canale tuttavia essendo in versione beta è proibito fare una recensione ma posso però farvi vedere un pochino quelle che sono le novità di questo titolo senza sbilanciarmi insomma però capirete poi da da come parlo insomma se quello che ho visto mi ha sorpreso meno allora sono cambiate tante cose che andare a vederle tutte veramente difficile la prima cosa che vi faccio vedere è il cambio delle icone quando voi avete i vostri personaggi vostri vostri calciatori non ci sono più i numeri che identificano una sorta di diciamo di stato di forma di condizione ma c'è un cuore un cuore che va via via a perdere il colore che è un pochino più magari realistico non trasformare uno stato di forma in un numero ma in un impressione quindi avrete questo colorino qui così stessa cosa per la forma partita allora il discorso è che adesso è una beta quindi non è tutto tradotto in italiano quindi quello che vedrete spesso magari è un una dicitura in inglese poi al rilascio il 24 di novembre sarà tutto completamente in italiano come è stato anche negli anni precedenti poi sono cambiate tanto anche le le interazioni nel senso che qualora io dovessi andare a fare una conversazione sono cambiati i metodi di vedete c'è questa impostazione qui che si chiama chiedere disponibilità a gente quindi possiamo andare a chiedere se c'è la possibilità di acquistarlo se può essere acquistato il giocatore il proprio assistito no e quindi quanto potrebbe chiedere che possibilità ci sono che la squadra lo ceda e così via ho trovato anche adesso siamo a calcio mercato finito ma è interessante perché ci sono delle interazioni che avvengono proprio con contatti con il la gente prima dell'offerta insomma è un qualcosa di un po più molto più rifinito rispetto a prima sono state aggiunte anche delle nuove schermate poi lo andremo a vedere adesso quello che io posso fare è saltare fino al giorno della partita in modo da farvi vedere anche l'intera faccia grafica perché sono state aggiunte diverse cose non è cambiato per quanto riguarda il lo stato della dell'allenamento potete però in questo caso c'è darmian che non si è allenato bene allora sono andato da lui a parlargli e posso anziché mettere il tono come si faceva nell'anno scorso quindi magari aggressivo piuttosto che più prudente ora si può fare gesto minaccioso mezzo abbraccio io metto mezzo abbraccio ai cinto col braccio darmian che sembra aver migliorato sul linguaggio col corpo del corpo e io gli dico mi stanno deludendo è colpa mia e mi dirò ciao mister dopo cioè sono cose che comunque sembrano inutili ma in realtà vi verrà di fare mentre va beh in questo caso abbiamo viene posto molto più enfasi su il nostro interlocutore e lo vedremo a breve quando andremo a vedere una una conferenza stampa prima dell'inizio della partita adesso io vado lo facciamo proprio così al volo saltando tutto quello che succede di aggiunte ce ne sono veramente tante sono cambiate alcune alcune voci alcune indicazioni non posso sbilanciarmi non posso dirvi è meglio e peggio insomma posso dire che dei passi avanti sono stati fatti e forse più che in altri anni questo è quello che io posso dire la beta iniziata il 10 di novembre continuerà fino al 23 24 quando il gioco verrà trasformato in versione definitiva quindi di cose da dire starei qua per ore a parlarvene però insomma adesso appena abbiamo modo di andare in partita veniamo molto più assistiti adesso soprattutto nel ripartita per quanto riguarda la scelta della formazione cioè è molto qua ci consigliano una formazione noi andiamo ad accettare o meno magari i consigli a quel punto io adesso metto che loro mi consigliano questa formazione io voglio fare di testa mia e quindi voglio anche questa conferenza stampa vedete hanno cambiato un pochino di trafaccia e vediamo tutte le persone presenti in in sala iniziamo la conferenza e alla fine il nostro vice ci dirà come è andata questa conferenza ora inizia lui con leggermente positivo sancio è tornato disponibile sì in alcuni casi quando le domande sono particolarmente scottanti possiamo scegliere la postura del corpo vedete che ognuno fa delle domande e io rispondo insomma scrivere sopra le domande sono più o meno le stesse se ne sono state aggiunte di nuove io adesso rispondo un po così cioè calcolando sempre che comunque vedete qua penso che ci sia stata una reazione leggermente negativa alla conferenza stampa vedete la relazione dei giornalisti fine lasciamo il meeting allora andiamo avanti e stiamo per iniziare l'incontro con la sampdoria riunione con gli osservatori e non è cambiato c'è sempre questo menu shift abile alla lista abbiamo ancora la resoconto e darmian ancora non mi ha fatto un ottimo allenamento però pazienza farà panchina andiamo in partita per la partita davvero davvero interessante in quanto ci sono stati delle ci sono state delle modifiche sia alla grafica sia ai movimenti alle animazioni ma soprattutto ci sono delle importanti novità vedete qua mi vengono dati dei consigli mi viene detto che lukaku sarebbe un capi vice capitano migliore di milan screener mi dice di spostare da positiva equilibrata la nostra formazione gli faccio fallo aumentare i compiti difensivi qua bisogna mettere mano soprattutto mi dice mi viene a dire se c'è qualche giocatore va beh qua su altri consigli che sono se ci sono dei giocatori a diciamo con una forma scarsa ma soprattutto la cosa più interessante è che da valutare poi è che se c'è in seguito a una nostra modifica è un giocatore che non si presta bene ai passari esempio io che mi viene in mente c'è brozovic che non è molto adatto a dei passaggi corti e se un allenatore o io stesso un allenatore mi consiglia invece allenatore mi consiglia di mettere quella formazione lì e oppure la metto io e c'è questa anomalia lui mi dice guarda brozovic non si presta molto a questo stile di gioco quindi o cambio lo stile di gioco o metto in panchina al giocatore io adesso ho acquistato emerson che dopo anni e anni alla roma poi al celsi adesso l'ho portato in riportato in italia vediamo un attimino vedete qua lo stato di forma di ho tolto young che comunque aveva uno stato in leggero peggioramento però la forma era buona probabilità infortuni bassa io metto dentro emerson che ha una forma invece in miglioramento un buon morale e uno stato di forma con probabilità vabbè forma eccellente probabilità infortuni alta e pazienza insomma confermiamo la formazione ho anche paese un altro giocatore vabbè ve lo dico giusto perché per gli appassionati caio george che ha fatto il fenomeno in in amichevole in estate ma poi gli do il 5 vedete che qua è un'altra schermata nuova i cambiamenti i commenti sulla formazione vedete in questo caso brozovic è preoccupato passaggi molto più corti non sono adatte la sua caratteristica passaggi in questo caso naengolan che gioca perché ovvi dal squalificato per tre giornate per gomitata non vede l'ora di misurarsi con antonio candereva e e scrina non vede l'ora di affrontare che i tabaldè va bene questa un'altra questo tabellino qui interessante ci mostra i commenti della stampa interessanti da leggere e la reazione qua dello staff alle news che non ci sono adesso andiamo nello spogliatoio dove vedete la stanza parlare alla stanza poi possiamo parlare a individualmente piuttosto che ai difensori centrocampisti attaccanti in questo caso vedete che nello spogliatoio per dire a fine primo tempo si può anche andare a buttare la bottiglia tra d'acqua io metto braccia distese per mi aperti in lode no mani insieme con cautela mani in tasca no le mani sui fianchi guardo in faccia la squadra e gli dico una squadra come la nostra dovrebbe vincere questa partita ci sono le prime reazioni c'è erics il motivato mi eracolo e una domanda così a bruciapelo abbiamo candeleva in paese lo aspetto no no ci pare normale ok va d'accordo con claude ranieri abbiamo un ottimo rapporto si un grande allenatore senza dubbio ripeto sto portando una squadra poi io sono una persona sportivissima e quindi hanno un merito di ogni squadra insomma sono qua a portare un gioco di calcio e non una anche se altro vedete la grafica è un pochino cambiata e c'è questa nuova schermata qua dove potete tenere d'occhio tutto la sto a dire la verità ancora esplorando e quindi qua possiamo vedere i sostituti che ci sono in panchina qua possiamo vedere il campo una delle cose interessanti vabbè qua abbiamo il menu che si può andare anche comunque ad approfondire qua c'è la possibilità di registrare di andare avanti indietro con la grafica qua il play abbiamo qua la possibilità di cambiare la mentalità tra le solite dai istruzioni quindi le solite anche qui comunicare alla squadra anche qui la solita hanno cambiato una cosa qua quando noi clicchiamo su uno di questi possiamo toglierlo immediatamente quindi un giocatore sostituirlo subito con un altro andare a vedere i suoi compiti e cambiagli in corsa dargli delle istruzioni singole oppure addirittura urlare dalla linea del fuori quindi possiamo dare in tempo reale una delle cose che normalmente diamo alla squadra quindi abbiamo un angolan che non si concentra gli urliamo dalla linea di laterale di concentrarsi un'altra cosa interessante che non vi ho fatto vedere prima è questa non ci sono poi non so se sia possibile aggiungerle o meno però non ci sono più quelle stelline quel simbolino verde che diventano sempre più verde poi magari si può aggiungere ma diciamo che lo trovo più più bello perché dovete comunque cliccare su ogni giocatore e non c'è più quella cosa rossa che che vi fa capire che state facendo qualcosa di brutto hanno aggiunto anche un sacco di analisi le vedremo in partita dopo quindi si fa la squadra e hanno messo hanno detto proprio che hanno aggiunto una maggiore diversificazione di tutti i ruoli e ruoli sono più fedeli rispetto agli anni scorsi rispetto appunto al comportamento in campo quindi dovremo vedere dei grandi cambiamenti così come anche in difesa vedremo meno giocatori fermi a guardare e più giocatori pronti a intervenire intanto vediamo le animazioni che comunque è stato fatto un passo avanti comunque alla poi un'altra cosa doverosa da dire è che è lo stato attuale del mondo quindi il fatto che non ci sia il pubblico ovviamente qual pubblico c'è ma è stato tutto diciamo ridimensionato a livello comunque di budget delle squadre perché i budget delle squadre sono comunque più bassi rispetto a al al normale appunto per giustificare questi mesi duri per tutti e anche per le squadre di calcio con dei budget molto più bassi appunto degli incassi molto più bassi dovuti alla mancanza di pubblico questo è stato detto un'altra cosa che è stata cambiata e che è tangibile l'ho verificata il fatto che ci sono meno diciamo cavolate che si vedono in attacco con giocatori con il compagno a fianco tirare comunque in porta qua si tiene conto del compagno d'attacco se un compagno d'attacco sta avanzando in fascia e in mezzo c'è liberissimo il compagno i giocatori tenderanno più a cambiare idea insomma e passarla al compagno e quindi mandarlo semplicemente in porta di cose ne hanno aggiunte di grafici ce ne sono veramente tanti e devo ancora in realtà esplorarlo bene il titolo ve lo voglio portare giusto per qua potete vedere le statistiche al volo di quello che sta succedendo è più tangibile appunto l'apporto di un giocatore soprattutto le mosse che vedrete in partita rispecchieranno molto di più rispetto al passato le abilità quindi se avete un giocatore che è un talento naturale lo vedrete fare rovesciata cosa che o colpi di tacco insomma colpi di classe che non vedrete fare in ad altri giocatori uno delle giovanili magari o piuttosto che altre adesso l'azione si sta mantenendo comunque piuttosto lunga anche se in realtà anche se in realtà non sta succedendo nulla di che qua potete come al solito andare a scegliere le azioni andando verso l'alto si va a vedere tantissimo e andando verso il basso invece solo le azioni fondamentali quindi in questo caso ci sta facendo vedere questa azione che dovrebbe essere particolarmente interessante con barella che fa dei tiri eccezionali l'arbitro ha fischiato hanno aggiunto maggiore varietà al var dove tante volte magari l'arbitro sbaglia verifica revisione del gol al var bellina la schermata è la prima volta che l'avete annullata martinez è in fuori gioco ok lui è tirato da fuori non c'entra assolutamente niente ma la rivediamo con barella che tira sì in effetti in effetti potrebbe aver dato fastidio alla visione dell'arbitro ok non devo dare giudizi insomma al gioco però insomma ci si fa un'idea qua si vanno a vedere varie cose si può andare a configurare la schermata qua però ecco anche il grafico dei passaggi è veramente un casino da capire perché ci sono mille linee alla fine ci fa vedere tutti i passaggi della partita però ci consentono di capire che cos'è effettivamente successo alla fine appunto vedete qua ci fa vedere quello che è successo ci fa vedere una grafica con secondo gli xg che è una statistica abbiamo fatto una gara sufficiente con un numero di reti attese simile agli avversari quindi questo non va bene quindi andiamo negli spogliatori qua vedete possiamo lanciare la bottiglietta ma l'ultima volta non ha dato dei grandi risultati batto il pugno gonfiaggio sotto la scella e pugni serrate lo scopo di incoraggiare sì sono un po' ridicolo visto così però siamo stati meglio di loro continuate così e finirà bene Ericsson è nervoso l'allenatore in seconda ci darà sempre le migliori diciamo alternative di risposta però poi tutto in mano nostra credo sia ecco vedete questo schema qui cioè ditemi voi cosa capite però insomma per farvi capire la quantità di dati che vengono sottoposti al gioco ma soprattutto al giocatore Ericsson mi stava mi sembrava un po' d'oramiente lì adesso io vediamo un attimo metto in pausa vedete che lui non è proprio messo a qualcosa ci danno i consigli con dei pop up possiamo accettarli sono utili perché non guardando tutta la partita è difficile anche capire le cose quindi ebbene vabbè Ericsson adesso io ti risciacquo la cartolina come si dice rimprovera no incita ok no dicevo sempre in conformità alle regole internazionali ci sono non più tre sostituzioni ma cinque divise però in tre tranche quindi potete sostituire fino a cinque giocatori ma per tre volte cioè non potete fare 1 1 1 1 1 ma dovete fare magari 2 2 1 3 1 1 3 2 basta insomma qua l'arbitro decide di andare al VAR vediamo che cosa è successo se è fallo o meno momenti di tensione anche perché siamo al 56esimo siamo 0 0 quindi verifica momenti di tensione gesto del VAR a rigore concesso ok batterà Romelu Lukaku concentrato Lukaku contro Audero non è da lui è giunto il momento di far entrare un talento brasiliano mi sembra Lukaku un po' sponpo quindi mettiamo Cario George ma gli direte perché metti lui e non Sanchez perché Sanchez lo metterò come trequartista se la cava meglio come centrocampista offensivo all'attacco e poi facciamo anche un altro cambio facciamo ne facciamo tre però non si presta molto questo stile di gioco passaggi corti Damian non si è allenato bene Vessino si sta riprendendo quindi direi che al momento possiamo andare a vedere i voti Emerson sta facendo una buona partita e al momento facciamo queste tre sostituzioni va e vediamo come va se riusciamo a rimetterla a posto qua un'altra cosa Barella sembra dovremmo cambiarlo perché sembra aver dato tutto mi dice cambialo con Brozovic e va bene dai cambiamolo con Brozovic va bene entra Barozovic e bruciamo la seconda tranche di sostituzioni a questo punto direi che è comodo averlo qui perché ci consente di capire subito allora Sanchez avanti ok Sanchez tiene il pallone avanti per Lautaro allarga nuovamente Sanchez Sanchez potrebbe darla in mezzo ma decide di tirare ci sta una botta di egoismo io incoraggio Alexis e lo incito e vorrei incitare anche Caio perché incoraggio non incito lo incoraggio perché è giusto che entra anche lui negli schemi appena arrivato e non ha reso per il meglio le prime partite ma ci sta è stato cambiato la grafica dei personaggi dei personaggi dei giocatori scusate e soprattutto dell'allenatore che è un po' più guardabile mamma mia chi mi stava per fare una meraviglia ma in realtà io adesso non sono ovviamente soddisfatto di questa partita senza golla ma in modo così possiamo andare a vedere anche l'evoluzione dello spogliatorio lancio una bottiglia d'acqua e dico domani ci alleniamo alcuni non l'hanno presa bene come Barella o Hakimi e gli altri si sono invece motivati anche Eriksen ovviamente e va bene Emerson ha dato luogo a quelli che molti considerano un buon debutto cosa pensi? è solo l'inizio non vedo l'ora di vedere il resto puoi spiegare tutto il tattico ho sempre pensato l'operatorio che è a calcio ok abbiamo fatto l'intervista veloce all'uscita poi avremo una brutta partita contro il Real Madrid stupisce il suo ritorno a calcio italiano e qua ovviamente ci informano della clausola di Lukaku quindi ragazzi questo è un assaggio un assaggino di quello che è Football Manager ripeto per chi è arrivato fino a questo punto del video non è un indie non è neanche un gioco di nicchie della verità lo produce Siga però c'è stata questa possibilità di portare il video è comunque un impegno che ho e l'ho fatto veramente con piacere sperando di chiarire i dubbi di chi di voi è indeciso se acquistarlo o meno quest'anno ovviamente non posso darvi un parere non posso darvi una recensione mi sono limitato a mostrarvi quello che è il gioco poi ovviamente se qua sotto usciranno mille mila commenti per un giudizio ci troveremo dopo il 23 quindi dal 24 in poi per avere un parere mio personale spassionato su quello che è questo nuovo simulatore di calcio fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima e ciao 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 ciao